A Tu per Tu questa settimana a ospite in studio Giacomo Bezzi, consigliere provinciale di Forza Italia, grazie Bezzi di essere con noi. Allora, il discorso sarebbe molto ampio, noi cerchiamo di svilupparlo in quei 5 minuti che abbiamo a disposizione. Allora, i cittadini chiedono nuova politica, i cittadini chiedono un nuovo modo di intendere l'amministrazione, ma ne pareremo poi diffusamente, ma mettiamo subito il primo punto del nostro sommario, cittadini donne. Cittadini donne, è iniziato l'iter per la legge sua, firma sua e della consigliera maestri del PD per le preferenze di genere, a settembre andrà in aula, cosa proponete con questa legge? Proponiamo di fare anche in Trentino quello che c'è nel resto d'Italia, le ultime elezioni comunali in resto d'Italia hanno votato con una legge che si votava la doppia preferenza, un uomo o una donna. Io da maschetto non ho paura a dire che le donne possano essere utili per cambiare la politica, per rinnovare la politica, anche in Trentino perché il Trentino ha bisogno di rinnovamento, una politica che sia a livello europeo, che a livello nazionale, che a livello anche locale ha bisogno di cambiamento. Il vecchio modo di fare politica non funziona più, abbiamo una situazione di disagio delle nuove generazioni che ormai è evidente, non riusciamo a dare il lavoro, non riusciamo a dare gli strumenti fondamentali ai giovani perché possono sposarsi, fare figli, è inutile che dal DOS vada in giro a promettere contributi sulle ristrutturazioni delle case, quello lì è un vecchio modo di fare politica, una vecchia politica che non funziona più, anche perché il bilancio a provincia di Trento subirà 500 milioni di taglio, che sono un sacco di soldi e verranno tagliati ai comuni che non potranno più fare e dare servizi ai bisogni essenziali. Ecco Bezzi, qualcuno dice che bisognerebbe cambiare tutto il sistema perché le teste pensanti sono teste logore, che naturalmente ognuno è figlio del suo tempo e lei dice delle donne, ma ci sono anche giovani che bussano alla porta e vogliono decidere loro del loro futuro e non essere parte passiva di decisioni, ma questo difficilmente è possibile, poi anche molte donne dicono noi non siamo una riserva indiana, non abbiamo bisogno di voti di preferenza. Io penso che se invece c'è una norma che aiuta i giovani e le giovani donne, ma anche i giovani, io ho qualche età in politica e mi rendo conto che o cambi modo di pensare il come la politica da risporto alle nuove generazioni, sono stato a Bruxelles un paio di giorni per capire, c'è un'Europa che verrà spazzata via dal cambiamento se i politici invece che arroccarsi la propria poltrona non cambiano il modo di pensare alla politica. È in atto un mutamento, un cambiamento generazionale che travolgerà il sistema e travolgerà anche l'autonomia trentina, non è che noi possiamo chiuderci in una gabbia o in un congelatore e dire noi siamo belli e bravi, perché intanto quest'anno ci spariscono 500 milioni su 4 miliardi e mezzo. La cooperazione, il sistema di cooperazione sta disintegrandosi, stanno scappando anche i manager perché probabilmente ci sono anche dei problemi finanziari in quel mondo, quindi bisogna avere coraggio quando ci sono fenomeni sociali così evidenti, lo vedremo, lo abbiamo visto nelle elezioni negli stati vicini a noi, quando ci sono questi fenomeni di cambiamento o chi ha responsabilità politica, li sa interpretare mettendosi in gioco, in discussione o altrimenti verremo spazzati via dal mutamento, dal cambiamento che vuole la popolazione della nuova generazione. Il trentino, pensate, non sarà esente da questo processo di cambiamento che invaderà l'Italia e l'Europa. Ecco, naturalmente le parole che dice lei hanno anche un supporto da parte di economisti, da parte di sociologi, ma quello che non capiscono le persone è che, ok, mi dite che c'è la crisi, che c'è il cambiamento, però volete guidare il paese, volete guidare l'Europa, ditemi dove dobbiamo andare e ancora nessuno sa dove andare. Noi dobbiamo andare, intanto facciamo un esempio per far capire ai stessi spettatori, oggi abbiamo in trentino 5.000 persone non autosufficienti, abbiamo uno strumento finanziario per dare una mano a queste 5.000 persone, fra 20 anni saranno 25.000 e le famiglie non, i nuove famiglie non nascono, nuovi figli e quindi come pensiamo di dare risposta a 25.000 non autosufficienti fra 20 anni, quando oggi ne abbiamo 5.000 e facciamo fatica, con meno soldi di oggi? Allora, se noi non pensiamo oggi, fra 20 anni, che trentino vorremmo, che dovrà essere solidale, ma che se non crea posti di lavoro e occupazione, sarà un trentino vecchio, vecchio assistito male. Difficilmente un politico a giorno d'oggi dirà, Giovanotti, vostro padre morirà di stenti perché non ci sarà lo Stato sociale, non avrete un lavoro, perché questo è quello che fanno per figurare. Io non voglio dire questo, però non voglio neanche vedere tutti i giorni pagine di giornali e serate piene di gente con dal dos che promette contributi per ristrutturare bagni, quando la prospettiva economica finanziaria del Trentino è su che lavoro avranno le future generazioni, come potranno le famiglie fare figli, come potranno i nostri anziani fra ventani essere assistiti, come le imprese, i trentini oggi, si preparano a stare in Europa e nel mondo fra vent'anni. Se non diamo risposte a queste aspettative, il cambiamento travolgerà questa classe politica ed esserà inesorabile. Dunque, un modello cinese non solo per quanto riguarda il lavoro, ma anche per quanto riguarda la società. Chi non riesce a sostentare se stesso, arrivederci, grazie. Sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori, brevissimamente. Come commenta i risultati delle amministrative? Amministrative? Abbiamo visto la raggia a Roma, l'appendino a Torino. L'ho appena detto, è il cambiamento, è il cambiamento sulle donne in particolare, io infatti sto impegnandomi per contribuire a dare una mano alle donne che scendono in campo in politica per aiutare al cambiamento, ma è un cambiamento che però per il momento, rispetto alle elezioni amministrative, è molto variegato, perché in alcune zone, le aree urbane hanno vinto i 5 Stelle, il centro-destra dove è unito ha portato a casa più comuni rispetto alla scorsa tornata, il centro-sinistra ha perso e quindi Renzi non è più il cambiamento. La riforma costituzionale di ottobre sarà un punto fondamentale, perché noi non possiamo costruire una democrazia che è dittatura, noi dobbiamo costruire una democrazia partecipata che rispetta il diritto di tribuno e delle minoranze, ma che sappia in qualche modo mettere in campo processi di cambiamento nell'economia. Il rottamatore è stato rottamato, sta per essere rottamato. Il rottamatore sta per essere rottamato perché vuole cambiare le istituzioni dal punto di vista delle riforme costituzionali, ma non c'è un cambiamento sulla vita sociale e sui bisogni della gente e quindi è una cosa di facciata che la gente non capisce e che non risente nelle proprie tasche, nelle proprie prospettive, nei sogni dei propri figli e nelle aspettative delle famiglie. Noi ringraziamo Giacomo Bezzi, consigliere provinciale di Forza Italia e naturalmente ringraziamo voi, ci rivediamo con un altro ospite. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori